Una donna di 39 anni e suo marito di 41, di origine bosniaca, sono stati arrestati ieri sera in piazzale Marconi a Piacenza vicino alla stazione ferroviaria, in esecuzione di ordini di carcerazione messi dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per un totale complessivo di quasi 20 anni di pena. A fermarli è stato il nucleo radiomobile della compagnia di Piacenza che stava effettuando un servizio di controllo. Dalla centrale operativa ai militari in servizio è stato segnalato che una donna era stata vittima di un'aggressione da parte del marito e di un figlio minore. La pattuglia è intervenuta trovando la donna alla guida di una Ford Focus in compagnia di un bambino. La 39enne era sprovvista di patente e carte d'identità. Era molto agitata per un diverbio scoppiato con il marito e il figlio 15enne, che sono stati rintracciati poi dai militari mentre erano seduti a un tavolino di un bar nelle vicinanze. Sul posto sono arrivate anche le pattuglie delle squadre di intervento di mestre, in questi giorni in servizio a Piacenza, e tutto il nucleo familiare è stato portato in caserma per gli accertamenti del caso. È bastato inserire i nomi della coppia nel sistema per scoprire che sui due coniugi pendevano dei provvedimenti restrittivi. In particolare, l'uomo senza fissa dimora con precedenti penali doveva scontare una pena di 11 mesi e 4 giorni per reati contro il patrimonio e la persona. In particolare, l'uomo senza fissa dimora con precedenti penali doveva scontare una pena di 11 mesi e 4 giorni per reati contro il patrimonio e la persona in materia di immigrazione per alcuni fatti commessi a Roma e in altre province tra il 2005 e il 2015. Nei confronti della donna, anche lei senza fissa dimora con numerosissimi precedenti penali e in stato di gravidanza, è emerso un provvedimento di cumulo di pene per 18 anni, 4 mesi e 28 giorni, per numerosi furti, borseggi e reati contro il patrimonio per fatti commessi soprattutto a Roma tra il 95 e il 2013. La coppia aveva con sé due figli minori di 7 e 15 anni che sono stati affidati ai servizi sociali del comune di Piacenza per essere collocati in due strutture di accoglienza.